ciao ciao tu sei lo zio di roberto sì allora io sono piacere gaia come stai sergione tutto bene io sto bene sto bene sono sono emozionato un po mozzurato e quindi l'emozione va tutto ma certo ma certo ma l'emozione la cosa più relativa che abbiamo una volta mi stavo annegando io al mare mi ha salvato un delfino come se fosse per me un bimbo che mi ha salvato tu quanti anni hai veramente se posso chiedere 33 33 anni ma se spesso sono del 58 il 18 dicembre del 58 33 anni c'è qualcosa che matematicamente non mi torna se del 58 sai in che anno siamo adesso sì non lo so non lo so non mi so dire che anno è il nostro pianeta si chiama nuqueale